Fondamentalmente ho chiuso con la mia ex, chiuso con il mio manager, chiuso con il mio fratello e ho detto vai a studiare dove vuoi, non mi rompere, non voglio prendermi questa responsabilità Cioè mi sono tolto tutte le responsabilità e l'unica che mi sono preso era di curarmi, cioè di stare bene Eri tu la tua responsabilità? Sì, sono diventato la mia responsabilità quindi sono tornato giù Benvenuti alla prima puntata di Stendino, il podcast dedicato alla generazione fuorisede durante il quale racconteremo storie di persone che partono, che rientrano o che semplicemente vivono con il sole in valigia Oggi qui con noi abbiamo un ospite speciale, un vero fuorisede che ha lasciato la sua Sicilia, Catania per inseguire il suo sogno e soprattutto una persona che il sole non ce l'ha solo in valigia ma quando c'è lui ce l'ha anche fuori E qui con noi Lorenzo Fragola Grazie, sono venuto solo per scruccare Eh lo so, eh lo so Però ci sta Questa qui oltretutto Lorenzo, non so se lo sai ma è la moca che mi ha regalato mia mamma otto anni fa quando sono partito per Milano Me l'ha messa di nascosto dentro alla valigia perché sai come si dice che la moca usata Fa anche il lacrimino Non la fa in automatico sicuramente Lo vuoi un caffè? Sì grazie A posto, come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto a posto, a parte la giornata di che sole proprio non ce n'è Quindi, eh lo so Un po' così, però Ci va male, ci va male Ecco, oltretutto queste anche sono le ceramiche vetresi, eh Cioè nel senso tu sei proprio in una casa da fuorisera Ma questa non l'ha messa in valigia No, 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 questa no Allora Eccoci Bella la location Ti piace? Molto Il nome stendino? Il nome stendino? Figo Tu ce l'avevi lo stendino in mezzo alle scatole ogni volta? Sì O ce l'hai? No, poi dipende perché se la casa ha al balconcino e c'è anche bel tempo lo stendino evito di usarlo Però Beh si è ricco e col balconcino dai E' un sogno Non a Milano di sicuro Sì, sì Oltretutto a Milano lo sai che ci sono un sacco di regole per cui non puoi stendere praticamente i panni fuori per decoro Cioè non è come da noi Ho capito, madonna Eh no, quindi devi averle Vabbè, ma infatti io delle regole No, scherzo Me ne infischio No, vabbè, però Vabbè, è come quando uno stende la Come si chiama? La tovaglia con le briciole, no? Eh sì Eh no, è in testa alle persone Eh io continuo a fare No, no Non lo devi dire Ma denunciatemi No, vabbè, comunque sì Effettivamente Stendino Lo stendino L'hai avuto come ricordo Ma senti, ma a proposito di ricordi Sì Ma tu ti ricordi il momento in cui sei diventato fuorisede? Allora, il momento in cui sono diventato fuorisede in realtà ce ne sono due Perché uno, il primo è stato da studente Cioè nel senso che avevo scelto di andare al Dams di Bologna Quindi da Catania mi sono trasferito a Bologna In realtà è una storia un po' strana Per chi non sapeva bene cosa volessi fare all'università Quindi così parlando Mi ricordo che ero d'estate giù in Sicilia Ho parlato con un mio amico che mi ha chiesto Ma allora che vuoi fare? Io non avevo idea Ma non lo so Economia Cioè, sai le prime risposte che ti vengono? Ma veramente non avevo idea E poi lui mi ha detto Guarda che la facoltà d'economia ha già fatto i test Quindi non si può fare più Ah, ok Cioè non te l'hai neanche visti quando erano le date dei test No, era proprio, sai, quelle risposte campate in aria E quindi ho detto Mi ricordo che ho parlato con mio padre Ho detto, sai papà vorrei fare un'esperienza fuori Ma in realtà era tipo, non ho alternative E sono andato a Bologna E hai scelto il Dams quindi? Quindi ai 19 anni, sì Quello che praticamente facevano i drogati per i nostri genitori No, no, l'ho fatto proprio perché Proprio perché? No, in realtà io, cioè, avevo visto Roma o Bologna Però a parte la difficoltà di vivere a Roma Cioè, soprattutto ai tempi c'era questo mito da noi Che in Roma era impossibile viverci E poi anche perché poi ai tempi stavo con una ragazza Che aveva, che si era iscritta a Modena Ok Sempre da Catania E quindi ho detto, vabbè, vado a Bologna Così, stiamo vicini E anche un po' per amore Sì, no, soprattutto Soprattutto per amore Sì, anche perché l'idea di cosa stessi facendo non ce l'avevo Quindi per me era proprio un Vado lì, vediamo cos'è Cioè, non pensavo sinceramente che avrei completato il percorso Come poi effettivamente non è stato Quindi sì, il primo ricordo è Bologna E io mi trasferisco in questa casa Che per cercare casa è stato difficilissimo Avevo preso una settimana Un band and breakfast per cercare casa Lì a Bologna Ho visto la qualsiasi Sì Ma la qualsiasi Tipo la peggiore? Te la ricordi? Allora la peggiore me la ricordo sì Perché è stata in stazione Vicino alla stazione centrale di Bologna C'era questa casa Io poi a un certo punto avrei voluto Come penso chiunque che si voglia trasferire Una camera mia Certo Il sogno Però siccome c'era esergenza del tempo Quindi mi si è raccontato anche di condividere una camera con qualcuno Ho detto vabbè Magari poi vedevo anche le foto delle persone Quelle che potevo vedere ai tempi Non è che era proprio come i social Cioè, era uguale però non così tanto Che tutti pubblicavano foto quotidianamente Quindi ho detto vabbè Magari va bene anche condividere una stanza E sono finito in questa casa Stazione a Bologna Che aveva un'unica stanza Con cucina, salone, due letti Piccola C'era un monolocale? Non era un monolocale Era, cioè Era abbastanza alto Il soffitto, grande Però era praticamente tutto messo insieme C'era una separazione di soggiorno Camera da letto, cucina E poi una piccola porticina C'era il bagno Ho detto va bene la condivisione della camera Però c'è la condivisione di tutto E quindi quella è stata terribile Però non l'hai presa? Non l'ho presa Ma vabbè Ma me ne sono scappate Piuttosto me ne torno giù Infatti non so se poi qualcuno L'abbia presa sicuramente Visto come vanno gli affitti Sia a Bologna che a Milano Ancora i tempi guarda Io sto parlando del 2014 Ok Quindi ancora a Bologna era Quanti anni avevi tu? 19 19 anni Sì Lo 2013 2013 Sì quindi vabbè Quella non sono riuscito Alla fine mi stavo tornando Mi ricordo che avevo l'ultimo appuntamento Prima di prendere l'aereo Per tornare giù Veramente disperato C'è veramente Allora ero tutto il tempo Col cellulare A guardare annunci Che all'ultimo momento Arriva questo annuncio Di una casa Io subito corro Vado a vedere Questa casa Ovviamente aveva Tipo 20 appuntamenti Soltanto del pomeriggio Era stato pubblicato a luna L'annuncio Io arrivo per primo Vedo la casa Era abbastanza lontano Però pulita Non c'era niente di particolare Ho detto va bene Sì subito Chiudiamo E poi ho scoperto Che ero il primo A scegliere la camera Quindi mi sono scelto La camera più bella Quindi è andata bene Sì sì Poi è andata benissimo Mi sono scelto la camera più bella Quella con le esposizioni Io poi Di queste cose Me ne sono sempre fregato Però ho detto Vabbè una volta che ci sono Ho potuto scegliere anche Tra i vari inquilini Cioè le hai scelti tu Gli inquilini Allora Uno era praticamente arrivato Gli altri sì Ho fatto il casting Anzi ho fatto tipo Il Come si dice Il Il gruppo Cioè ho scelto I componenti del gruppo Perché alla fine Eravamo due ragazzi Io e Subito quello che è entrato Dopo di me Che facciamo entrambi il dumps Quindi cavolo ok Figo abbiamo C'era affinità No ma soprattutto Non ci conoscevamo E saremmo Avremmo dovuto iniziare il dumps Quindi ah figo Anche tu farai il dumps Che bello Andiamo insieme Ogni tanto sbatto qua Poi un altro invece Che era più grande E quindi aveva Delle abitudini diverse Lavorava Eccetera Però era uno molto preciso Molto ordinato Vabbè alla fine Mi ho creato questo cast Di conquilini In quattro E poi l'ultimo Che sto giunto Era un chitarrista Ah Sì La prima cosa che mi ha detto È Ma ti dà fastidio Se faccio musica No Quindi è stato È stato molto figo Infatti mi ha insegnato A suonare la chitarra Cioè Strimpellavo Però mi ha iniziato A suonare un po' Un po' meglio Non è che sappia Suonare la chitarra E come ti sei trovato Con i conquilini Cioè nel senso Andavate d'accordo Oppure c'è quelle situazioni Tipo in Conquilino di merda Quelle cose lì Ma no no È andata bene Quell'esperienza è andata bene Perché Beh alla fine comunque Anche se Non Tutti facciamo la stessa cosa Però Io e un conquilino Facciamo il dumps L'altro suonare la chitarra Quindi comunque C'era un ambiente Abbastanza Artistico Sereno Non troppo rigido Non troppo stretto Però allo stesso tempo Non ci sono mai stati problemi I vicini Che ne pensavano? Beh quello Non lo so Poi abbiamo colonizzato Il tetto del palazzo Perché per sbaglio La proprietaria ci ha detto Avete anche uno spazio nel tetto Cose da non dire Da non dire Abbiamo fatto calare Una multipresa Dalla finestra Dal tetto Fino alla finestra Attaccavamo Abbiamo messo un tappeto sopra E ghinzzavamo di tutto Cioè Veramente di tutto Gem session Di tutto è successo Però è stato molto bello E quindi Non avevo una bella esperienza Dove essere sincero E tu quanto tempo Sei stato poi lì In questa stanza A Bologna? Pensavo sarei rimasto Per i tre anni Dell'università Poi Subito dopo un anno In realtà Sono entrato a X Factor E quindi Le prime fasi I primi provini Siccome passano Da un provino all'altro Passano un po' di tempo Quindi Sono rimasto lì A Bologna Continuavo a studiare Ovviamente Poi quando è iniziato A diventare un po' più serio Quindi Che accedevo Avevo fatto già l'audizione Davanti ai giudici Eccetera eccetera Lì ho iniziato a valutare Altre cose Dico Ma forse mi dovrei Trasferire a Milano Eccetera Però dicevo Non c'è bisogno Perché le audizioni Dove erano? A Milano? Le audizioni La prima Sai che non mi ricordo La prima a Torino Poi a Milano E poi Bologna Quindi in realtà Tutte Un po' Più città Le fatte in più zone Sì sì No però Alla fine dicevo No non ha senso Che mi trasferisco Devo continuare Tanto chissà Dove cavolo Mi porta questa cosa Quindi poi Quando è andata bene Definitivamente Ho capito Che mi sarei dovuto Trasferire a Milano Quindi ho lasciato a Bologna E sono andato a Milano Però aspetta Prima di tutto Com'è nata L'idea Di andare a X Factor Cioè come è venuto in mente Di fare il provino Ma non è che Mi è venuto in mente Ti hanno scritto Non lo so Sai quelle cose Di cui i miei amici Mi hanno buttato Tu facevi già musica Comunque Sì però La facevo Ma non la facevo Cioè non ero uno di quelli Che ha fatto la gavetta Del tipo Andavo a suonare i locali O ero mai stato In uno studio di registrazione Questa cosa Non era mai successa Quindi Era una cosa Che facevo per me Sai quando ci sono Non le recite Mi viene da dire le recite Però tipo Le occasioni della scuola Dove fai Magari lo spettacolo Eccetera Io avevo partecipato al liceo Quindi questa non è stata L'unica occasione In cui ho fatto Sentire musica Però erano occasioni Sempre un po' particolari Non erano Le classiche occasioni Da voglio provare A fare musica Nella vita Io pensavo di studiare Pensavo non lo so Di inventarmi sempre Qualcosa di artistico Perché comunque Il Dams Disciplina dell'arte Musica e spettacolo Quindi comunque Ha a che fare con l'arte Però non nel ruolo attivo In un ruolo magari Dietro le quince Poi in realtà Il Dams Non ti prepara A fare un cavolo Cioè non è che Nel senso La cosa che mi dicevano Era sì per fare il critico Ma io sinceramente Il critico non pensavo Gli avrei voluto farlo Era una scusa Per dire ai miei genitori Vabbè sto studiando Non era Ma i miei genitori Come la presero Cioè quando tu gli hai detto Vado a Bologna A fare il Dams Perché ti dico Io volevo fare il Dams Poi ho fatto altro Mi ricordo che ci ho fatto Belle litigate Con i miei genitori Perché comunque Ci sono tanti stereotipi Poi c'è molta preoccupazione Anche per un figlio Che magari vuole prendere Una strada così Incerta Come quella dell'arte Ma allora Io non ricordo esattamente Come andò da discussione L'unica cosa che mi ricordo È che li ho convinti Dicendo Dario Fo Al Noris Causa A Bologna No E scherzi a parte Li ho convinti dicendo Guarda Io non so cosa devo fare Però male che vada Insegno Cioè nella mia testa Non era un'alternativa Così terribile Ok Cioè alla fine dicevo Va bene Divento una laurea Cioè comunque mi piaceva Studiare Le lingue Studiare le lettere Leggere Cioè era un po' Nella fase Quella voglio fare L'intellettuale Nella mia testa E quindi alla fine Non me ne era così brutto Non sarebbe stato così brutto Finire a insegnare Per cui quella era l'unica Scusa Per cui me l'hanno permesso Ma in realtà Io non l'ho voluto insegnare mai Cioè quindi Non No Era solo una scusa per loro Sì 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 Ma poi Cioè l'ho sempre visto come Non so cosa farò nella vita So quello che non farò nella vita Cioè so che non sono un tipo che Riescirebbe ad andare in ufficio Ogni giorno Davanti a un computer A fare delle cose più tecniche O più scientifiche O più matematiche Quello non era il mio Cioè il mio era Arricchirmi Arricchirmi culturalmente Arricchirmi di cose Leggere Guardare film Ascoltare musica Cioè Arricchirmi E parlare di questo Parlare anche con le persone Ma in generale Proprio arricchirmi di persone Di storie Cioè una cosa Che mi è sempre stata così Quindi quella era un po' Anche i miei genitori Hanno visto che era un po' La traiettoria naturale Della mia personalità Che comunque A 19 anni c'è Ma Era anche definita Ma non era completa Quindi Ok allora è meglio Piuttosto che obbligarlo Costringerlo Insistere su fargli fare una cosa Che non sente sua Piuttosto Prova E quindi così E quindi poi tu Sei a Bologna Ti fai questa esperienza Con i conquilini Provi a fingere Di prenderti una laurea E Devo dire Tra l'altro Andavi bene? Molto bene Cioè non Non ero così A liceo Non ero uno che C'è leva a niente Invece mi sono trovato là Che mi piaceva quello che facevo Ti piacerebbe oggi Riprendere una cosa Una laurea? Sì E mi Sono ben informato Sì? Sì Ci sto valutando Sempre qualcosa di Allora gli esami Tipo non li potrei convalidare Quindi non ha senso No Diciamo che poi negli ultimi anni Ho avuto a che fare Con persone che hanno fatto psicologia Che sono iniziati Di psicoterapeute Forse quella cosa Mi appassionerebbe Io ho fatto psicologia Proprio perché Te repenti? No Assolutamente Sto attorno Degli studi bellissimi Secondo me È una materia che Se ti piace Comunque Però tu l'hai portato avanti Poi fino a fine Io l'ho portato avanti Però volevo fare musicista E per la strada Ho incontrato diverse persone Che avevano questa affinità Musica e psicologia Non ho ben capito perché Però c'è questo connubio Quindi non mi sorprende Che tu voglia fare psicologia Secondo me è perché Cioè entrambe indagano Sull'animo umano A loro modo A loro modo diverso Però Sì Cioè la musica è un Secondo me Non è una terapia Però è comunque un mezzo Per accedere a delle cose Che dentro Sia che tu l'ascolti Sia che la fai Cioè comunque È un dovere a che fare Con le proprie La propria emotività È magari affascinante Studiarla anche Le persone Quello che compongono Le persone Eccetera Quindi la psicologia Penso che faccia un po' Io te la consiglio Te la consiglio Se vuoi venderti La lavora Tutti quelli che fanno psicologia O sono pazzi O lo diventeranno Beh quello è un classico Cioè in psicologia Si dicono due cose Uno che non troverai mai lavoro Però Visti gli ultimi tempi Questa cosa sta scomparendo E la seconda Effettivamente Che i psicologi Sono i primi Ad avere bisogno Di terapia Però ci sta Cioè nel senso Importante È curarsi E torniamo un attimo Quindi al momento In cui tu Decidi di fare X Factor Cioè tu ti ricordi Il momento In cui Cioè loro ti hanno richiamato Dopo i provini Sì me lo ricordo Ma allora Faccio una piccola parentesi La mia ragazza del tempo Sì Poi ci siamo persi Per dieci anni Quindi tu eri andato Ai provini Con la tua fidanzata del tempo Sì Che è quella Che vi dava moda Ci siamo persi dieci anni E adesso Dopo dieci anni di distanza Siamo tornati insieme Quindi Quando ogni tanto Parliamo anche di come era Dieci anni fa Ovviamente eravamo due persone diverse Lei mi ha ricordato Questo momento Io non mi ricordavo Sinceramente Della chiamata Di andare sul palco Ed eravamo al supermercato Che stavamo facendo la spesa Siamo tornati a casa E Mi ha chiamato Ha detto Ah fighissimo Ero gasatissimo Anche lei era gasatissimo Forse lei era più gasata di me Perché io sono sempre uno Che cerca di non Non alzare le aspettative No di non esultare troppo Ok Cioè Non so Quest'ansia di dover esultare Prima del tempo Come video di quelli là Che corrono Fanno così E poi quello lo supera Cioè non so Ho sempre avuto questo Questo pallino Quindi eravamo emozionatissimi Felicissimi E nel tragitto di casa Abbiamo rovesciato olio Bottiglia Non so se era collegato Oppure un caso Però sì Mi ricordo che stavamo facendo la spesa Mi hanno chiamato E mi hanno detto Vogliamo che sali sul palco E fai davanti ai giudici Ho detto ok Fighissimo E lì quello là L'ho fatto a Bologna Quindi in casa Praticamente Ok Sto pensando ancora al fatto Che tu dopo dieci anni Poi ci arriviamo Poi a questa storia Teniamola lì La storia della fidanzata E quindi poi Vai a fare il provino Lì con i giudici Sul palco E lì che succede? Ma lì succede che Io arrivo intanto a fare il provino Che ero esausto Perché la convocazione È tipo alle sei del mattino E io lo faccio a mezzanotte Quindi tu immagina Tipo l'ultimo Quindi tu immagini Di una giornata di ansia Che non smette Tipo quando devi fare l'esame E sei l'ultimo E ti tengono lì Sì Ma secondo me peggio È tipo che devi fare Un'operazione al dentista E ti tiene 15 ore là A dire Aspetta che ora te la faccio Aspetta che ora te la faccio Quindi è stato Ero già stanco Però quando sono stato Io poi C'è l'ansia L'ho sempre avuta C'è proprio un meccanismo Che ho sempre avuto Anche da bambino Però Nella fase post adolescenziale È quella che ha iniziato Ad averci che fare i conti Siccome io non ero abituato A cantare davanti alle persone Soprattutto persone Che non mi conoscevano Cioè per me là è stato Tipo il pieno dell'ansia Capito Però alla fine L'ho detto Vabbè Era successo Che il primo provino L'avevo passato Con un certo tipo di superbia Che forse non mi apparteneva Però pensavo Meglio questo Che l'ansia Cioè meglio Che mi faccio vedere Che sono convinto Piuttosto che Dico no Sono me stesso E poi in realtà Me stesso è pieno d'ansia Quindi lì Non so perché Un attimo prima Mi sono convinto Che ho detto vado Cioè è successo qualcosa E ho detto vado Ho cantato È andato molto bene Cioè non me l'aspettavo Che andasse così Comunque fa impressione Che vedi delle personaggi Che Cioè che magari Sempre ascoltato Visto in tv E poi te li ritrovi davanti Che ti guardano Tipo dai Però è andata molto bene E E mi ricordo Il pubblico Che fece la standing ovation E io Cioè sinceramente Non me l'aspettavo Questa cosa È la cosa più bella Che io ero molto emozionato Ero molto felice Di questa cosa Ma la mia ragazza Dietro era tipo Incredibile Era scioccata Questa cosa Oppure io l'ho sempre detto Che dovevi fare Sai perché poi Cioè io te l'avevo sempre detto Che dovevi fare Sono la prima Che ha creduto in te Esatto E i tuoi genitori Li hai sentiti poi Quando Sì sì Li ho sentiti Li ho raccontato Bene bene Non mi ricordo Di volta che mi dissero Forse va bene Non ti esaltare Cioè aspetta Ancora lunga Sì sì Forse anche loro Mi hanno trasmesso Sì sì Poi siamo andati avanti Con le fasi Eccetera E poi una volta Che sono entrato Nel cast Che ancora non sono stati Mandati in onda Le puntate Mi ricordo che venne Fedez Che era il mio giudice A Catania Per non sapere A un concerto Allora con la scuola Ho detto Andiamo a mangiare Io Cioè io sapevo Di essere dentro Lui sapeva che io fossi dentro Ma nessun altro Sapeva che fossi dentro Quindi magari Andiamo a mangiare In un ristorante Io porto il mio amico Gli dico Oh mi raccomando Non mi farei fare Brutte figure Non devi fare Mi ricordo Quindi sì È stato molto Molto particolare Perché poi Dentro il programma Mi sono trovato Catacultato In una situazione In cui non Ripeto Tutti erano un po' più avanti Di me Anche C'era anche Chi era più piccolo di me Anagraficamente Però erano un po' più avanti Quindi Aveva Lo svezzamento Non lo so Registrare davanti a un microfono Cantare su un palco E invece io ero Proprio Sì Io mi ricordo Bianco Bianco Mi ricordo di te E mi ricordo che Tutti parlavano di te Come l'esempio proprio Di chi arriva dalla strada E Cioè Era molto genuina Come cosa Non sembravi Oggi soprattutto Nei talent Ci sono persone Ragazzi che sono super mega preparati A quel mondo lì No? Tu invece Ma ti dico Guarda Cioè Io fino a un momento prima Che successe tutto questo Cioè ero uno di quelli Che faceva parte della categoria Vabbè ma Ci fa chi Conosce Ci fa chi Non lo so I raccomandati Sì Oppure Che è tutto truccato E tutto Ci sono dei meccanismi Quindi Ci sono andato anche con quest'ottica Del tipo Lo faccio Ma non entrerò mai Proprio per questi meccanismi Al di là del merito no Cioè era proprio Un discorso di visione Anche provinciale Del mondo Dello spettacolo E poi quando c'entri Vedi che in realtà Le persone sono molto più semplici Di quello che una può pensare Tranne in America Più di cose Sono curioso di capire Cioè poi Quando è che hai realizzato Che effettivamente Oppure che ne so Sono andate in onda Poi le puntate Che succede C'è la fama Quando è che l'hai iniziata a sentire Nel mentre O quando poi sei uscito Guarda La prima bot Me lo ricordo Incredibile Me lo ricordo benissimo Che la prima cosa Che ho pensato Cavolo Cioè sta succedendo qualcosa È stato Un messaggio Che mi ha mandato Dante dei Two Fingers Su Twitter Mi ha scritto Oh grande In bocca al lupo Ho pensato Cioè sta scrivendo a me Hai capito E per me era uno Poi in quel periodo Erano usciti i Two Fingers Con quelle robe Che si ascoltavano in giro Super Dance Dicevo Cioè iniziano a scrivere Mille persone Anche gente che fa musica Quindi Sto diventando un collega Cioè non so Mi è venuto il dubbio Ho detto Sto diventando un collega Quindi lì forse ho iniziato A avere la prima botta E poi ovviamente Tu che lavori nei social Lo sai Cioè inizia a guardare i numeri Che esponenzialmente Aumentano Non sai neanche come gestirli Perché magari Non sei proprio preparato A me è successo Da un momento all'altro Cioè non è stato tipo Graduale Pubblico contenuti E dopo un mese Due mesi Iniziano a raccogliere follower Iniziano a schizzare No È stato Zero 140 follower Mandano la puntata in onda Dalla notte al giorno dopo Mi sveglio 100.000 Cioè veramente È stato 100 con 100.000 Per esempio Ora non mi ricordo Se è 100.000 Potrebbe essere un altro numero Sì 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 Però ti sono esplosi È esploso così Poi magari Mi sveglio la mattina Vedo questa cosa Sciocco con i miei amici Oh incredibile Metà mattina Arriva un articolo Che ne so Sulla Sicilia Che è il giornale siciliano Di pomeriggio Altri 50.000 Cioè quindi è stato Veramente una botta Prima e dopo E mi ricordo Che noi non potevamo uscire ancora Era un periodo in cui Non si poteva uscire Dentro il programma Non avevi accesso esterno Perché cercavano di proteggerti Da qualsiasi tipo di Influenza Delle persone Non volevano che ascoltassi Cosa dicevano Perché poi c'erano anche i commenti Cioè Proprio in televisione Quindi chiamavano commentatori E commentavano la puntata Quindi era Sì 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 Molto Molto così Per cui non volevano Che noi accedessimo fuori Però una sola volta Poco prima della finale Ci hanno portato a vedere Un concerto di Palomutini Anche per farti sbagare Perché eravamo proprio Al limite della follia E quindi siamo andati al forum A vedere Palomutini Bellissimo concerto Però Nella fila del forum Le persone Cioè impazzivano No no Incredibile Facciamo una foto Cioè Quelle sono le prime foto No E lì ho capito L'impatto che sta avendo Quella cosa Che per me in realtà Io devo essere sincero Poi ho partecipato Senza averlo mai visto Cioè l'avevo visto Quando era in Rai Però non l'avevo visto Quando era passato a Sky Quindi Non sapevo come funzionasse Per cui Ho dovuto adattarmi Velocemente A una situazione In cui anche Ero entrato con Un certo tipo Di pronostico favorevole Che io non mi sentivo addosso Ma che gli altri Non smettevano di ricordarmi Di averlo Quindi Giù dicevo Mi raccomando Che noi contiamo Che tu fai bene Nella prossima volta Dicevo Ok cavolo Aspetta Ti caricavano di aspettative Troppe 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 Ma anche gli altri concorrenti Che mi guardavano E dicevano Ma tanto tu arrivi in finale Dicevo A parte la toccata Te la tiravano Ma comunque Mi sentivo questa responsabilità E non ero pronto Ripeto Mai salito su un palco Mai cantato dietro Uno su di registrazione Avevo scritto Una canzone C'è incredibile Cioè tu non è che ne avevi fatte Cento E ti era andata bene Poi lì No no Tu hai fatto una canzone Non l'avevi mai cantato No l'avevo scritta un'altra Ma non eravo completata Cioè questa era la prima Che avevo completato Quindi ho fatto quella Non avevo Dove l'avevi scritta Nella tua casa da fuori sede Ma sai che ora No in realtà l'avevo scritta In Sicilia In Sicilia In Sicilia Sì 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 mi ricordo dove Cioè mi ricordo a mare Però Non so il posto esatto Ma sai cosa Mi incuriosisce Cioè vorrei capire Quando tu poi sei uscito Che è andato tutto benissimo Diventi Lorenzo Fragola Sono nato Sì 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 Però diventi il Lorenzo Fragola E A Catania Cioè nella tua cerchia Come l'hanno presa le persone? Perché Ho sempre notato questa cosa Che poi Quando hai successo Nella tua città Nel tuo paesino Questo l'ho riscontrato Anche un po' Sulla mia pelle Sì ci sono tante persone Che sono felici Però Indispettisce No questa cosa Cioè tu hai percepito Che cosa Da Catania Quando Sei uscito da lì Ma allora Cioè in realtà L'affetto L'ho sentito Perché Comunque Secondo me È molto più Che al nord Poi non lo so Magari è una mia sensazione Però C'è questa forma Di Che figata Che uno dei nostri Ce l'ha fatta Nella testa Ce l'ha fatta Poi Dipende cosa uno intende Per ce l'ha fatta Però Diciamo che Ha raggiunto un traguardo Ed è E fa parte Della nostra Cioè della mia cultura Del mio paese Quindi Quella cosa Secondo me L'ho sentita Quell'orgoglio Proprio Di dire Cavolo un siciliano È un catanese La cosa che Secondo me Poi è capitata È che Io mi sono chiuso Un po' Cioè non mi sono Sto per morire Va vai Beh 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 Lo dicevo Io mi sono chiuso un po' Non sono Mi sono attornato Di persone Di cui Che conoscevo prima Che arrivasse Quella botta di popolarità E non sono uscito Da quella cerchia Quindi non ero uno Che andava in giro Per dire Che figata Adesso sono famoso Guardatemi Anzi preferivo Restare a casa Stare con gli amici Di una vita Quando entrava qualcuno Di nuovo nel gruppo Sempre lo guardavo Un po' con sfiducia Del tipo Mi posso fidare Non mi posso fidare Magari poi facevo Un comportamento Che non mi piaceva Tipo Che ne so A me mi ricordo Una volta Viene una ragazza In questo gruppo E fa una foto Di nascosto E tipo Penso Ma che cavolo Capito Quindi Sono sempre rimasto Mi sono attornato Delle persone Di cui mi fidavo Per cui non ho avuto Grandi colpi negativi Da parte delle persone Ok Perché tu L'ho sempre evitato Per quello Perché tu Quindi Poi finisci X Factor E inizia La tua seconda fase Da fuorisede Esatto A Milano E trasferisci a Milano Sì Inizialmente Con Band & Breakfast Cioè Magari per lavoro Devo andare in studio Quindi prendevano Un residence Poi mi spostavano Un altro Band & Breakfast Infatti Io non avevo più cose E i miei oggetti E i miei vestiti Li avevo a Bologna E non l'ho avuto Mi ricordo Che da quando è finito A Poi dopo Sanremo Cioè parliamo di due Tre mesi Non ho avuto il tempo Neanche di andare a Bologna A fare Perché tu avevi ancora La tua stanza a Bologna E la fidanzata Ce l'avevi ancora? Ni Domanda scomoda No ni Nel senso Dopo pochi mesi No Ci siamo lasciati Però sì Quindi non avevo Prima di niente di mio Era tutto lavoro Solo lavoro Dalla mattina alla sera lavoro Per cui mi prendevano Un residence Mi spostavano Allora infatti Anche in quella situazione Io Pur di non sentirmi così Tanto solo Abbandonato In questa situazione Più grande di me Allora magari chiamavo il mio amico Stava il mio amico Due settimane da me Poi arrivava un altro amico Cioè li chiamavi da giù Venivano da Catania A trovarti Sì sì Perché tu a Milano Non eri riuscito a farti Cioè un giro Ma guarda considera che Appena sono arrivato Non avevo nessun giro Solo il lavoro Certo E nel lavoro Erano tutti Cioè io ero molto piccolo Per l'ambiente di lavoro Cioè io avevo 19 anni Non è che I discografici Avessero 19 anni Ora un pochino Stavo rimediando Che prendo più giovani Ma i tempi Cioè il più giovane Aveva 50 anni No? Produttori Cioè non c'era anche Un grosso tipo di Nella mia età Soprattutto Non sapevo neanche Di cosa parlare C'era un ambiente Molto cool Della musica Quindi ne so Ti chiamavano A fare un evento Ed era pieno di Modelli Modelle Gente dello spettacolo Cosa di cui a me Sinceramente Milano Milano Sì Milano Però era quel tipo Di Milano Quella da Copertina Non quella da fuorisede Non quella da fuorisede Infatti esatto Io non me la sono vissuta Fuorisede Studente Che ha una vita Di università Conoscere le persone Fa le sue feste Fa le sue cagate Fa le sue cazzate E appende lo stendino Dei vestiti sporchi Nello stendino Non ho avuto quello Ho avuto Andiamo a cena Nel ristorante Lussuoso Perché c'è un Brand Che vuole portarti lì Andiamo questa serata C'era tutto molto in Quelle poche volte Che ci andavo E quindi non avevo giri E me ne sono portati Da Giù dalla Sicilia Tutti i miei amici Che sono rimasti con me Un sacco di tempo E mi hanno aiutato anche Perché io Ripeto Non avevo scritto niente Fino a quel momento Avevo scritto un solo brano Perché tutti gli altri brani Dovevo scrivere in italiano Dicevo Di cosa devo scrivere in italiano Non sono capace Di qua di là Allora con i miei amici Provavamo a scrivere dei testi Ma Sempre le prime volte Infatti per me La cosa assura È stata scrivere Le mie prime canzoni in italiano Che poi sono state pubblicate È come se tu Scrivi la tua prima canzone A 14 anni in cameretta Però il giorno dopo In radio Sì Quindi la mia crescita Io proprio l'ho fatta palese Cioè davanti a tutti Nel senso Scrivevo una cosa Va bene Ok andiamo in radio Ok benissimo Fuori c'è il sole Fuori c'è il sole Non è così è nato Non è che C'è stata una delle prime cose Ce l'ha scritta con i tuoi amici Sì è scritta con i tuoi amici Che era da Catania Era venuti a Milano Sì Eravate lì chiusi Sì C'era un'idea in inglese del pezzo E poi c'è questo ritornello Aspetta come faceva Ora finge di non ricordarsi No come faceva La canzone inglese Mi ricordo all'inizio Faceva It was strange To see you dress like you Be worried Faceva così E poi è cambiata Che poi era molto riptide Molto folk E poi c'era il ritornello Che aveva In inglese Che non mi ricordo Ho detto senti Mettiamo tre cose Che mi vengono in mente Estive E allora ho messo I Ray-Ban La vodka L'odore del mare Ma è stato perché Il mio amico Io ho detto tipo I Ray-Ban Lui fa la vodka Lui fa il mare E gli ho detto L'odore del mare Meglio E lì A me ho scritto Quella canzone Solo che ripeto A me per me È un po' Sempre con determinate Paragoni Molto cauti Però un po' La mia Cioè per me è tipo 50 special Non so per come Per Cremolini Però immagino Che non è magari Il pezzo di cui È più orgoglioso Però ha Quell'attitudine Da ragazzo Da ragazzino Che esprime Una sensazione Non pensa a niente Pensa soltanto A scriverla La pubblica E qualcun altro Che magari è Esattamente la stessa situazione O anche più giovane Cioè che ha Quell'attitudine Spensierata La fa sua E dice È la canzone Della mia estate Del Come 50 special Immagino Sarà la canzone Della giovinezza Di alcune persone Sto per morire Oddio Ti sei emozionato In realtà Per questo No per niente Per questo ricordo Della cameretta No però Cioè Milano Ok che non te la sei vissuta Quindi In maniera molto naturale Ma ti piaceva? Eh no Perché ho visto questo lato Di Milano E non ti piaceva? No era troppo diverso Da me Cioè dalla mia realtà La mia realtà Era quella Dello studente In Sicilia Che con tutta la buona volontà C'è la cosa più cool Che ha visto E Non lo so Un bar in centro Però Cioè Non era neanche proprio La cultura Del voler fare le cose in Voler fare le cose cool Cioè era Viviamoci La compagnia Viviamoci lo stare insieme Ma Non c'era quell'aspetto Soprattutto quell'aspetto economico Che sembra banale Ma non lo è Cioè Milano comunque La prima cosa che mi ha sbattuto in faccia Era Qua è un altro livello Non so come dire È una metropoli Grattacieli Brand E questa cosa di brand Le brand Non ti rimane Sì No perché Perché mi faceva morire No Pensavo tipo Quei brand che io A Catania Magari Facevo fatica A comprarmi una scarpa Di una determinata marca Ora quella scarpa Il direttore Di quella scarpa È qua con me Che sta parlando Che mi vuole portare a cena E mi vuole dare dei soldi Io pensavo Questa cosa è assurda Capito Vorrebbe darmi dei soldi A me per mettere le scarpe Che io fino a ieri Mi compravo E cioè questa cosa Mi ha scioccato Però ovviamente Ho visto quel lato Quell'aspetto più Patinato E anche un po' Forse più superficiale Quindi all'inizio Non mi piaceva Milano E per di più la vita Cioè avevo avuto a che fare Nel mio arrivo a Milano Avevo avuto a che fare Anche con il mio Esploit Di 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 popolarità Sì Perché c'è stato X Factor e Sanremo Quindi io mi sono più che altro Chiuso Mi sono più che altro Chiuso in casa Con i miei amici Con le persone che conoscevo Quindi Milano Me la sono vissuta Soltanto negli eventi lavorativi Cioè per me era Il lavoro Milano Basta Basta Cioè non hai mai pensato Di poterci vivere No Io pensavo Spero di arrivare A un punto della carriera Dove me ne posso andare a Milano E posso tornare in un posto Che mi piace di più Dove mi sento più al mio agio Dove Che era Bologna o Catania? Che era Catania Che era Catania Perché Cioè ti mancava In tutto questo processo Casa? Sì Pensavo Iniziavo anche a portarmi Da presso un peso Che mi dava Milano Di dover performare E quindi pensavo No ma io le cose Che mi piaceva di più Fare musica Quando stavo giù Quando non avevo pensieri Quando ero spensierato Ovviamente Confondevo il fatto Di essere spensierato Con il posto Ma non era soltanto il posto Era anche Il mio stato d'animo Certo Però sì All'inizio Non è che la odiavo Non l'apprezzavo E infatti Dopo un po' di anni Dopo tre o quattro anni Me ne sono tornato giù Ho detto basta Ti volevo chiedere una cosa Ma Ti ricordi Una grandissima Scroccata Che ti sei fatto A Milano Durante Questi periodi Di enorme popolarità Sai che ci devo pensare Me l'ho fatta più di un Vabbè Una Ce l'ho Mi è venuta in questo momento Vabbè La più grossa di tutte È stata a casa di un mio amico Che stava a Ibiza Che aveva Una casa Un regista Infatti lo saluto Flavio Ciao Flavio Che Friglante aveva Questa casa Ibiza E io sono andato Con i miei amici Sono sposato io Tre miei amici E siamo andati a casa Lui Ibiza una settimana Zero spese Alla Piamedeo proprio Sì sì In questa villa stupenda E quindi lo ringrazio Beh questa era una parte bella Bellissima Sì sì è una figata E invece Tu pensi che Milano Ti abbia cambiato Comunque In questi anni Sei stato tre anni Quindi tu No io sono stato Quattro anni Quattro anni E poi sono tornato giù E adesso da Tre anni Tre o quattro anni Sono di moglie E in quei primi quattro anni Ti aveva cambiato Insieme alla Popolarità ovviamente Del momento La domanda è che Io non riesco a distinguere Le cose Capito Cioè Il mio trasferimento a Milano È coinciso con Aver iniziato questo Come lavoro Quindi non so se È stato tanto Milano O il lavoro A cambiarmi Però sì Sicuramente Mi ha cambiato Nel senso che Mi ha anche un po' Incupito Mi ha appesantito Pensavo che Mi sono perso Una parte di età Forse Una delle più belle Quella dell'università Quella di fare nuove amicizie Quella di andare a vivere da solo Con poche responsabilità Nuove responsabilità Ma poche Quindi dover studiare Dover campare Quindi dover fare Quella vita da fuorisede Che avevi iniziato a Bologna Invece sono arrivato Che a 19 anni Dovevo fare il professionista E dovevo Avevo l'avvocato Che doveva guardare i contratti Cioè Avevo il manager La cosa Fare le foto Cioè era molto più professionale Per 19 anni È stato un po' Complicato Quindi credo che mi abbia appesantito Sia l'aria Sia Appunto Questa Questa botta Di popolarità Per cui Sì un pochino Mi ha cambiato Sopra Cioè ho dovuto fare fatica Per poi recuperare Una certa parte di me Che secondo me Lì avevo un pochino Eh ma ci arriviamo allora Perché A questo punto quindi Tu decidi di andare via Cioè cosa succede Qual è il punto In cui ti convinci Di tornare a Catania E anche Come cambia poi La tua vita Anche lavorativa Sì Decidi di tornare a Catania Per più motivi Il primo Vabbè è stato Che poi mio padre Si è ammalato E io Non lo so Pensavo Ok forse è il momento Di tornare Anche con questo Con questo discorso Ma A livello proprio personale È stato Che a un certo punto Sono arrivato E è diventato pieno La mia vita Era stata Era troppo Cioè era troppo Quella situazione Avevo una casa In affitto Qua a Milano In zona Navigli Grandissima Abitava la mia La mia ex Poi abitava Mio fratello Che era venuto a Milano Per studiare Gli ho detto Sì vieni All'inizio Sempre per quel discorso Di portarmi vicino Tutte le persone Di cui avevo più fiducia Però abitavo anche Il mio manager Che era venuto Da Catania Allora abitava con me C'eravamo tipo In cinque persone Nella casa Il cane Le responsabilità L'avvocato Lo stress Cioè L'avvocato viveva a casa No L'avvocato viveva a casa Però cioè Comunque Era una situazione Che a 22 anni Secondo me era troppo E quindi sono crollato Sono crollato mentalmente Ho detto No non ce la posso fare A fare questa vita così Cioè piuttosto Veramente abbandono tutto Vado a fare il cameriere a Londra Cioè ho pensato veramente Quindi Perché stavo male Stavo male dentro Appunto Attacchi di panico Delle situazioni Per cui A un certo punto ho detto Ok no Io ricomincio Cioè Nonostante Mi sto godendo Cioè sono felice Che questo sia diventato Il mio lavoro Che la musica Sia la mia vita Però Ho bisogno di recuperare Delle cose Che mi sono perso Cioè proprio Delle intimità con me stesso Di cosa voglio fare Cosa voglio essere Che persona voglio diventare E quindi ho Praticamente chiuso i rapporti Cioè Poi Sono capitate delle cose Però Fondamentalmente Ho chiuso con la mia ex Chiuso con il mio manager Chiuso con il mio fratello Ho detto Vai studiare dove vuoi Non mi rompere Non voglio prendermi Questa responsabilità Cioè mi sono tolto Tutte responsabilità E l'unica Che mi sono preso Era di curarmi Cioè di stare bene Eri tu la tua responsabilità Sì Sono diventato la mia responsabilità Quindi sono tornato giù Ho anche rilacciato Un pochino I rapporti di mio padre Appunto Ho visto questa malattia Cioè Ho abbandonato Un po' di responsabilità Che mi ero preso Per difendermi Dalla cosa Sono diventate troppe E quindi ho detto Ricomincio E quindi mi sono goduto Gli amici Stare giù L'atmosfera Anche il linguaggio Che era cambiato Parlavi milanese? No Non parlavo milanese No Si sente che non parlavo milanese Dopo dieci anni No però Però ci stavo più attento Perché magari alle interviste Inizialmente dovevo fare Parlavo tutto molto più così Diciamo Ma io non sono così Cioè io parlo così Cioè è normale Solo che non mi sembrava volgare Perché avevo questa visione Del fatto che Il dialetto L'accento Si potesse sentire Questa cosa mi torbava Quindi volevo parlare Italiano il più corretto possibile Ma l'avevamo fatto anche notare E questo ti volevo chiedere Cioè nel mondo Nel tuo giro Quando eri a Milano Ti avevano mai fatto sentire A disagio Per questo tuo essere siciliano Questo tuo accento meridionale? Sì assolutamente Sì? In un ambiente che Tra virgolette Era un po' più privilegiato Quindi pensavo Che questi discorsi Non ci fossero più Invece sì Non l'ho sentito Magari in maniera non plateale Subdola Ok però Ti facevano delle battutine magari Sì Magari succedeva Che io parlavo Ciao come va? Ah siciliano eh? E si diceva Sì e quindi Non è che io ti guardo E penso Ah milanese Cioè nel senso Ma anche nelle canzoni Cioè anche quando cantavi No no Nelle canzoni no Vabbè c'erano delle cose Che continuano a non saper fare Tipo la parola bagaglio Non c'ho la GL La GL non c'è Sì anche io questo Vabbè ma queste sono cose Problemino Dialetti Ok quindi Cioè cadenze Sì però in generale Era un po' Cioè mi facevano ancora più sentire strano In un certo senso Del tipo Tu non sei il classico artista Che fermiamo Non so come vuol dire Non sei il classico artista Che valutiamo per brand Dico di nuovo Perché mi piace la parola brand Ti piace proprio questa parola brand Sì E quindi Ok Ti sei tornato a Catania Ma Oltre ad aver lasciato Milano Hai un po' Cioè sei un po' Uscito dalla scena No Hai iniziato a La gente iniziò a chiedersi Che fine ha fatto Lorenzo Fragola A un certo punto Cioè lì In quella fase Hai iniziato a produrre Anche meno a livello di musica Cioè che è successo Poi lì a Catania Ma Lì è successo che Io avevo fatto Degli album di fila Ripeto Senza sapere cosa stessi facendo Cioè nel senso Scrivevo Per provare delle cose E poi quelle cose Non avevo neanche il tempo Valutarle Perché venivano pubblicate Perché mi si chiedeva di farlo Entro certi tempi Ci mi ricordo che i primi due album Li ho fatti in totale Tutti e due in due mesi Cioè due album Che sono tipo 12 canzoni 13 canzoni Eccetera In due mesi in totale Quindi il tempo che li scrivi Li produci Non era passato neanche tempo Quindi la mia Il momento in cui mi sono fermato È per dire Aspetta Voglio fare una ricerca Voglio capire Che musica voglio fare Non ce l'ho stato Per cui me lo sono preso Cioè Volontà Come dire Che l'avessero accettato meno Ho deciso No Mi devo fermare Devo capire Che musica voglio fare Non me lo sono ancora chiesto Cioè Io non mi ero chiesto Che artista voglio essere Voglio fare il punk Non era quello Però Cioè Dovevo capire Che cosa volessi fare Ma tutto questo Cioè Dove sei andato Quando sei tornato Nella casa dei tuoi genitori Quando sei andato a Catania No Avevo Casa mia Che era una casa Monolocale Di famiglia Però era vista mare C'era molto carino Perché era vista mare Ti mancava il mare Quando stavi A Milano Sì Sì Io sono proprio nato a mare Cioè Proprio Nato In mezzo Agli scogli Proprio letteralmente Partorito lì Dagli scogli Che ha preso Però è anche Un gabbiano La cicogna E mi ha portato È anche una fonte Di ispirazione Per chi fa arte Musica Starci stare È uno stato mentale È uno stato mentale È uno stato mentale Ti fa fare delle domande Ti fa chiedere delle cose Te stesso Ti devi guardare Devi dire Cioè devi farti delle domande Ti costringe Sì Io avevo bisogno di risposte Ma soprattutto di farmi domande giuste Quindi secondo me Era il posto migliore Per farsene Solo che Non è stato così facile Pensavo fosse una cosa Anche passeggera Tipo scendo giù Mi riprendo Un po' di energie E poi torno Invece no Era molto più profonda Molto più complicata Perché Avevo abbandonato Un percorso Che avevo iniziato Dello studio Dell'università Avevo iniziato Ho intrapreso Questo percorso della musica Questo percorso della musica Mi stava creando Delle difficoltà Quindi Veramente ero in dubbio Se continuare Se era la stata giusta Oppure dicevo No forse questo sogno Finisce Ed è troppo tardi Mi rendo conto Che ho sprecato del tempo Invece per tornare Cioè non posso più Tornare indietro Quella sensazione Quindi Devo fare bene Quindi non deve mai finire Questo sogno Quindi Devo continuare a pubblicare E Non ce la facevo più Per cui ho capito Che invece il lavoro Era molto più complicato Molto più complesso E Si tornava Si trattava proprio di Recuperare delle cose E Staccarmi anche Da un certo tipo Di visibilità Mi ha permesso Anche di poter andare A Senza troppo stress Andare In un bar Fare una passeggiata Senza che questo diventasse Magari un momento In cui La gente mi chiedeva Una foto Cioè Ho dovuto recuperare Anche un po' di vita normale Perché se no Dicevo Ma di che cosa devo parlare? La famosa vita lenta No? Ma anche io Che mi chiudo a casa Con i miei amici Si posso parlarne Fino a un certo punto Poi dopodiché Non va bene più E lì A Milano Come l'hanno presa Poi questo tuo periodo Di pausa? Cioè a livello lavorativo Tu hai detto Ragazzi io Mi devo fermare E loro? Ti dico Non mi hanno mai detto Che era un problema Però Secondo me Allora è brutto da dire Perché non è Non ce l'ho mai Quando magari faccio Delle critiche All'ambiente discografico Non ce l'ho mai Con delle persone in particolare Penso che sia Anche loro siano vittime Di un meccanismo Di una macchina Che cammina E non sanno come cambiare La traiettoria Di quella roba Però credo che sono Per molti sono diventato Quello che diceva no Cioè quello che mi veniva Proposto una cosa E dicevo no Non lo posso fare ora Cioè ho bisogno Di stare fermo Che ne so Una volta me l'ho proposto La pubblicità di una macchina Dicevo no Ma erano magari Un sacco di soldi Però Dicevo Non posso fare questo Cioè significa Rimettermi nella giostra Non ho bisogno di questo E non posso permettermelo Oppure Uscivano Che ne so Dei progetti Delle cose Una volta mi ha detto Allora scrivi un libro E io non mi ha detto Ma io non so scrivere un libro Cioè nel senso Quindi diventavo Quello che diceva no E diceva no Sia A livello di progetti Ma sia anche economicamente A tante cose Per cui Secondo me Sono diventato un po' Anche quello che Che non era facile Con cui lavorare Perché Stavi un po' sul cazzo Dai possiamo dire Ma forse tuttora Sto un po' sul cazzo Sì Però perché Ci tenevo anche A fare delle cose Veramente col cuore Cioè quello l'ho sempre Ecco quella è l'unica cosa Che non mi sono Non ho mai perso Cioè volerlo fare col cuore E mi piace il fatto Che per Per riuscire a farlo Sei tornato a casa tua Cioè nella tua Sicilia E ti ha aiutato Questa cosa È stato molto lungo È stato molto complicato Poi ha avuto a che fare Anche ripeto Con questa malattia Di mio padre Che poi comunque È peggiorata Infatti poi ho perso Mio padre un paio di anni fa Però diciamo che La cosa difficile È stata Conoscermi Di nuovo da capo Cioè non ero più Lorenzo Che era partito Disilluso Dalla Sicilia Per andare a studiare Dams Senza sapere Che cosa fosse il Dams O che cosa Avrei fatto nella vita Non ero neanche Quello Iper professionista Che magari Arrivava a Milano E diceva Sì dai ragazzi C'è il Yes man Che Cassava tutti Era un po' a metà Un po' nessuno dei due Quindi ci ho messo Un bel po' di tempo Poi ho fatto un album Da un po' di anni Dove Ho fatto un po' di Ecco ho avuto Già un po' più di tempo Per sperimentare Però è sempre stato Anche un compromesso Con quest'ansia Di dover Fare delle cose Che valessero E che avessero Un certo tipo di successo Perché dicevo Va bene Io ho avuto il tempo Per sperimentare Però Troppo Tempo è passato Adesso l'ultimo progetto Quindi devo fare Qualche cosa Che sia valido Comunque ce l'hai Quest'ansietta ancora Di restare troppo fuori Dai giochi No adesso No adesso no Adesso no No perché Cioè ora Mi rendo conto Che anche Vai avanti nell'età E non puoi giocare A quel gioco Di arrivare per primo E di arrivare sul tempo Devi giocare più al gioco Di fare bene Il tuo percorso Di essere contento Di quello che fai Cioè per me Questo è molto più importante Adesso Se non devi andare Non va Però io me la devo vivere Meglio che posso Cioè devo dare Tutto a me stesso E quindi Però l'ho capito Molto tardi Cioè sono successe Tante cose Nella vita Tante persone Ho incontrato Nella mia vita Positive Che mi hanno aiutato Io cerco Di dimenticare Le cose Le persone brutte O le cose brutte Che mi sono successe Le persone Perché Alla fine Qual è stata la cosa Che ti ha aiutato di più A uscire Un po' Da questa situazione Guarda L'incontro Lavorativo Che mi ha aiutato di più È stato quello Con Mameli Perché Lui mi aveva scritto Per scrivere un pezzo insieme L'abbiamo scritto E mi sono trovato bene Anche lui catanese Anche lui catanese Infatti avevamo Cioè Questa che mi sono trovato subito Avevamo lo stesso modo Di Di dialogare Cioè Parlavamo delle stesse cose Nello stesso modo Poi magari avevamo Opinioni diverse Però Purtroppo questa cosa È vero che succede Che Tra i terroni Si parla Il terronese Nel senso Si parla Il terronese Perché Cioè Non è un caso Io poi Alla fine Le persone in cui mi trovavo Medi a Milano Quasi tutte erano del sud Quindi Secondo me Quella cosa aiuta Avere un terreno fertile Entrambi Ci si parla Ci si capisce Che non è solo l'accento È anche un po' Il fatto di magari Sapere di essere cresciuti In un contesto Di avere dei sogni Magari Che ti portano ad andare via Le difficoltà Che vivi Più o meno Sono quelle Sì Le realtà Le cose che vedi E anche Secondo me guarda La cosa Per me più Difficile da riscontrare Se non con le persone del sud È il tipo di ironia Cioè io posso dire A un mio amico Le peggio cose E lui non si offenderebbe mai Perché sa Perché ci capiamo E lui può fare lo stesso con me Cioè Abbiamo questo tipo di ironia Molto prorompente Molto dirompente Non prorompente Molto dirompente Molto Esagerata Estrema E questa cosa Non è che è sempre capita Quindi Se tu vai a un altro Dici Che cazzo fai Cretino Magari Cioè si offende Invece Che cazzo fai Cretino Ha detto A una persona Che ha visto Le due stesse cose A parlare allo stesso linguaggio Diventa Una dimostrazione d'affetto Assurda Però è così Non è vero È verissimo Quindi con Mario È stato quello L'incontro lavorativo Che mi ha Ti ha tirato un po' fuori Da Sì sì Mi ha sbloccato un po' di cose Ma vedere che lui poi È totalmente una persona Diversa con me Lavorativamente Io sono quello che è Un po' E ora? Cioè Cioè tu ora Poi Sei tornato a Sei andato a Milano Sei tornato a Catania Ti sei riscoperto Possiamo dire così Cioè Sei in una fase di riscoperta Però ora Sei tornato a Milano Ora sono tornato a Milano Da un paio di anni Perché Comunque non avevo Interrotto il filo Del lavoro Quindi magari capitava Che salvo a Milano Facevo delle sessioni Che ne so Una è stata Margarita di Elodino Che l'avevamo scritto Conta Caccia e Chetra Che poi magari Io per me Non andava bene Cioè non ero più nella fase Avevo bisogno di altre cose Quindi ogni tanto salivo Poi tornavo giù Poi piano piano è successo Che più salivo E più da turista Quindi non più ci abitavo E non avendo più responsabilità Quindi ero solo Ho iniziato a vivermela Da fuorisede veramente Quindi Iniziavo a vedere i locali Dove c'erano i ragazzi I giovani Dove No Cioè ho iniziato a vedere Anche un'altra parte di Milano Io mi ricordo Non avevo visto Praticamente mai Che ne so No il museo di Prada Sì Quello l'ho visto Però c'erano delle Di monumentale Tipo non volevo andare Alla monumentale Non mi era mai capitato Di andarci Allora una volta Che ero salito a Milano Avevo un giorno in più Ho detto ok Vado a vedere il monumentale Bellissimo Piuttosto che andare Nei soldi locali Che frequentavo Lavoro a Tito C'erano tutte le persone Allo spettacolo Vado in giro Per la città Mi perdo Bellissimo Tutta la zona di Cyanatown Non c'ero mai stato E poi la cosa che Veramente mi ha svoltato tanto È stato Avere un gruppo di amici Secondo me la cosa più È quello che ti cambia tutto Nella vita di un fuorisede La casa te la porti Dietro così Sì E tu hai trovato Il gruppo di amici Siciliani oppure Tutti di Catania È un gruppo Tu con i Già con i palermitani No No Ci sono anche palermitani In mezzo Qualche fiorentino Però Sì Tutti di Catania Ci siamo ritrovati E abbiamo iniziato Le partite di calcio C'è una cosa che per me era tipo La posso fare solo giù Quando ero all'inizio a Milano Quindi Non potevo più farla Avrei dovuto rinunciare a quella cosa Invece piano piano da turista Iniziavo a fare le partite di calcetto Poi ci vediamo Facciamo il pranzo La domenica Dove ognuno cucina qualcosa Le lasagne E ci mettiamo tutti quanti Le feste Le ricorrenze Si festeggiano Che era una cosa che io avevo perso Per festeggiare una ricorrenza Un compleanno Una cosa Dovevo scendere giù Che bello Sono stato bene Ora devo tornare a Milano E soffrivo Invece piano piano Ho trovato un gruppo di Una famiglia Una seconda famiglia E ho detto Ma che Sai che forse è il momento Di tornare qui E Supportato da queste persone Che sono famiglia Veramente Mettermi di nuovo A scrivere A A lavorare A diventare professionista Cioè A tornare a Ad avere un tipo di voglia Anche di fare le cose E così Sono tornato qua a Milano Poi come ti dicevo Dopo un anno Ho incontrato Di nuovo Questa Questa persona La stessa ragazza Che ti aveva accompagnato Sì Ai provini di X Factor Ti hai lasciato Dopo tutto sto giro L'hai rincontrata a Milano? No 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 L'hai rincontrata a Milano L'ho rincontrata in Sicilia Alla Rimini di classe Dopo dieci anni E da lì Hai riscattato tutto Quindi ora State insieme Tu Hai la tua cerchia Di amici catanesi Sei sereno a Milano Cioè ti piace? Sì E ora Cosa sta succedendo? Cioè Sei pronto per Altra musica? Sì Sono È sempre difficile Scrivere Soprattutto È come Guidare la bicicletta Cioè Pedalare Cioè Tu lo sai fare Lo sai Ti diverti anche È bellissimo Vedere i posti Andando in bicicletta Ma devi Riprenderci la mano Quindi pubblicare Ancora non ho avuto La possibilità di pubblicare Perché Non mi sento pronto A pubblicare Però il lavoro Che sto facendo in studio Il lavoro che sto facendo Sulla canzone Mi piace molto di più Me lo sto godendo di più Ho imparato a divertirmi Fare il mio lavoro E non apprendere tutto seriamente È il tipo Devo scrivere Imagine di John Lennon No Non posso entrare in studio Pensando di scrivere Imagine Devo pensare di scrivere Una cretinata E poi magari Quella cretinata Invece è un valore Però me la devo godere Devo divertirmi Quindi arrivare a Milano Con questo nuovo approccio Me la fa vedere Ecco la famiglia Appunto Di questi amici Me la fa vedere Con un'ottica Molto diversa Rispetto a prima Che ne pensi Della Sicilia Di Catania Un giovane Oggi Se ne deve andare Da lì per fare successo Per inseguire i suoi sogni Oppure È fattibile Riuscire a portarli avanti Anche giù Sinceramente Ma guarda Ti dico Mi piacerebbe dire È fattibile rimanere Ma Non ci credo Cioè nel senso Non ci credo Perché Insomma è diventato Molto stile Purtroppo Quando uno dice I migliori Se ne vanno Ne sono convinto Però In tutti gli altri paesi Secondo me Gli altri posti Del mondo I migliori se ne vanno E poi tornano E portano Quello che hanno imparato D'altre parti Sono arricchiti Cosa che Ci sta secondo me Il problema Che non c'è neanche Cioè è così ostile Secondo me Una parte Certe cose Del sud Italia Certe cose di Catania Certe cose della Sicilia Che forse non torni proprio Cioè ad un certo punto Dici ma non ne vale la pena Quindi Io purtroppo sono molto pessimista Cioè spero di sbagliarmi Ovviamente Spero che Un sacco di persone Decideranno di restare Arricchiranno Culturalmente E io Voglio veramente Sbagliarmi su questa cosa Però Purtroppo quello che vedo È che È diventato quasi Un Una minaccia Cioè Se resti Tutto sarà difficile Tutto sarà complicato Dovrai lottare il triplo E già abbiamo mille problemi Quindi lottare il triplo Non mi sembra Per esempio Sì Non mi sembra Fattibile Poi ripeto Per la mia storia personale Chi si prende questa responsabilità Molto spesso poi Se le infligge da solo Soffre da solo Quindi io Penso che Ormai siamo arrivati In un momento Proprio mondiale Globale Dove c'è una cura Verso la propria personalità Verso la propria creatività Li esprimere se stessi E oggi Stare giù Secondo me Ti rende questo molto difficile Quindi Purtroppo Posso parlare solo per la mia esperienza Tornerai? Non credo Non lo so Non lo so Ma non so Perché non so Cosa mi riserva la vita Quindi Se mai avrò una famiglia Se non la avrò Non lo so Diciamo che ora come ora Più vado avanti con l'età Più sono indolente Rispetto a certe cose Sei insofferente Sì 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 Sono insofferente Quindi Il ritardo dell'autobus Dico ma perché ancora Quella cosa che non funziona Non è che ti sei milanesizzato un po' Un po' sì Un po' sì Certe cose sì Tipo la moca la fai ancora Oppure fai la Cioè O è la macchina O è la macchietta È la macchietta Però la moca la faccio La camminata L'hai velocizzata? No Ho sempre avuto la veloce Quella Sì Vabbè Però mica c'è quella milanesa Ma lo sbatti Lo dici? Che sbattimento? No 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 ecco Sulla lingua no Poi voi avete questa fortuna Voi siciliani Che qua c'è minchia C'è a Milano Come in Sicilia Minchia Però c'è il primo a UE E che cosa ti sei milanesizzato? Ripeto Su certe cose tipo lavorative Nel senso che Ecco una cosa che non mi piace molto Poi io non sono né campanellista Cioè tipo La Sicilia è la cosa più bella del mondo Siamo tutti fighissimi La cultura Gli arabi Né Tutte critiche Cioè secondo me non esiste un posto Milano ha tanti pregi Ma soprattutto Tanti difetti Poi io sono uno che guarda Molto più facilmente I difetti delle cose Quindi c'è molta solitudine Milano in generale Molto individualismo Che però non crea collettività Secondo me è molto difficile creare Collettività C'è questa ricerca sfrenata Del Devo migliorarmi Va bene Ma anche no Cioè nel senso Non è che per forza uno Deve essere Deve migliorarsi Ma anche uno lo vede Andando in strada Qua a Milano Cioè La media delle persone In sovrappeso Rispetto al sud È proprio minore Cioè Sembra una cretinata Non ci stanno tutte le cose buone Da mangiare Quello Perché c'è anche Un altro tipo di visione Certo No Godere è tanto importante Quando prendersi cura Del proprio corpo Godere Stare bene Stare in compagnia Condividere Rilassarsi Cioè questi sono valori Anche importanti Che però magari qua Si perdono Però ti dico Secondo me La cosa del sud Che più soffro A questa età Per cui non so Se tornerò di più È Proprio l'etica del lavoro Non lo so A me è capitato Molte volte Che sembra Quasi un favore No Cioè vai al bar Magari Poi non lo so A me è capitato Poche volte Però Quelle volte che è capitato Mi sono rimasto impresse Magari qua non te lo fanno Neanche un sorriso Quando ti capito Di fare il caffè Però È sacro il lavoro Cioè Si deve fare Si deve essere precisi Si deve fare E tutti sono soddisfatti E magari lo paghi Anche troppo Quel lavoro Che viene fatto qua Rispetto a giù Però giù invece c'è La calma Lo sbuffo Sembra quasi un favore No È giusto che uno Faccia il lavoro E penso che anche Quella persona Che magari sta facendo Quel lavoro Che è faticoso Dall'altra parte Quando Non so Vuole sbricare una pratica Vorrebbe la stessa cosa Certo Quindi sono dei meccanismi Secondo me sociali Che ormai si sono creati Nel corso di millenni Ti sei milanesizzato No È che ti dico Che a 30 anni Mentre a 18 Queste cose Dicevo Ma sì Chi se ne frega Andando avanti Se io mi do immaginare Una famiglia Con magari un bambino Se sono pensare A un bambino Una scuola Prendere in mezzo Prendere il tram Cioè queste cose Magari diventano Più importanti Certo Mentre prima Me ne sarei fregato Prima dicevo No Sono importanti Il sentimento Altre cose Quindi sì Quella cosa Un pochino Mi ha milanesizzato Ma per vedere Se c'è ancora Un po' di anima Di fuorisede Dentro di te Ok Ho preparato per te Una sfida Tu hai mai stirato Cioè stiravi le camicie No Mai stirato le camicie No Ci ho provato Cioè sai stirare Eh Boh Sì Qualche volta l'ho fatto Non penso Allora dimostriamolo Allora Facciamo così Io qui ho un ferro da stiro Ok Prendi una camicia Lì sullo stendino Prendi una camicia Ah le camicie Una cosa semplice Sì la cosa più semplice Che c'è da stirare La metto qua Aspetta aspetta Che se no facciamo un danno Spacchiamo tutto il tavolo Ok Allora per magia Io faccio apparire Un ferro da stiro Ok Eh Voilà Ma allora Prima di iniziare Come Che Non lo devo prendere così No non lo devo prendere così Allora Le basi ti mancano a te Allora Aspetta Prima di iniziare a stirare Sai che le mamme O comunque le persone Quando stirano di solito Canticchiano Cosa canticchiano? Lorenzo Fragola Mentre stira Non lo so Mi vengono soltanto Gingolo delle pubblicità Di detersivi Non so Come Devi stirare e canticchiano Faccio Aspetta È un momento bassissimo La 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 Non so Ti viene la pubblicità Cioè tu canticchiano Attento alle mani Ma devo Sono Eh sì Se lì esce il vapore Io non mi ricordo È palese Che tu non l'abbia mai Stirato nella vita Comunque Posso dire No no Ho stirato qualche volta Ma tipo Saranno quasi di Sei rimasto a quelli Che andavano Allora Prima di tutto Quando stiri la camicia Da dove si parte? Dal centro Dal centro Così Dall'ultimo pezzo Praticamente si è partito Ah sì Quindi dal colletto Sì si parte Colletto Ok Ma questa cosa è pericolosissima Che stiamo facendo Non penso che in un podcast Abbiano mai stirato Non me non sono morti bruciati No Però Vabbè Ok Allora Allora Ti devo dire che facciamo così Posa sto coso Sette Fermati Lascia Lascia Ho paura No 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 Senti Vabbè Ok Lascia a te meglio Lascia a me Allora Mi sembra Perfetta Io ecco Non ho mai capito Come non si fa A lasciare Le macchie Quelle dell'acqua Posso essere sincero Manco io Ah ok Allora Fai così Metti sta camicia lì Lasciamo perdere Scusa Stendere Un vero fuorisede Non usa Sono d'accordo con te Sono d'accordo con te Allora Prova Proprio Persa In maniera Palese Vabbè dai Ci ho provato Siamo arrivati Alla fine di questa conversazione Io ogni puntata di questo podcast La voglio chiudere con un format Una domanda che ho chiamato C'ha la muffa Cioè Vorrei che tu mi raccontassi Quel momento proprio di più basso Della tua vita da fuorisede Dove Che ne so Hai mangiato veramente un piatto Misero Una roba proprio schifo Cioè hai fatto proprio schifo C'è una roba che dici C'aveva la muffa quella cosa Ma l'ho mangiata lo stesso Cioè Ce l'hai avuto un momento così basso di vita Allora Mi viene in mente Due Piccoli Uno Vabbè A un certo punto Erano Tipo uno dei primi mesi Non mi sapevo regolare Con quei pochi soldi Che c'erano E quindi sono finito L'ultima settimana A mangiare la stessa pasta Con la mollica Con la mollica? Sì Mollica, sostata e pasta Basta Olio e parmigiano Per tipo una settimana Questo era tipo il momento Che ho detto Madonna Aia E' complicata E un'altra Sempre a Bologna Questa qua a Bologna Che a un certo punto C'è stata un'invasione Di blatte Nella cucina E mi ricordo Che ho detto Cioè è complicatissimo E lì che hai fatto? Sei scappato? No DDT E delle cose Poi siccome Sembra brutto detto così Però siccome C'erano le blatte Ok Però erano sotto il lavabo Per cui dovevo mangiare E allora c'era Nella dispensa Che era un'altra parte E ho detto Forse ci sono andati Ma io non ho altro Quindi hai potenzialmente Mangiato Potenzialmente ho mangiato Delle blatte O cose contaminate da blatte Sai che dicono Che ora ci sono gli insetti Tu avevi anticipato i tempi Vedi? Erano farine di blatte Direi che è un ottimo Aneddoto Da Cialamuffa Lore Grazie mille di essere stato qui A questa puntata di Stendino Grazie a te E soprattutto di aver condiviso La tua storia da fuorisede Beh che dire ragazzi È stata una puntata Molto interessante Lorenzo Ha una bella storia da fuorisede Che secondo me Ci fa riflettere Su tante cose Tra cui L'importanza Al di là del successo Di investire anche tanto Su noi stessi Sul nostro benessere mentale Oltre che economico E soprattutto Mi ha colpito Quando ha parlato Dell'importanza Del mare Mi sono sentito Molto vicino a lui Perché anche io Sento forte Questo richiamo Che mi dà vita Mi dà energia E mi manca tantissimo Però è interessante Anche ciò che ha detto Riguardo il fatto Di tornare O non tornare In Sicilia Perché secondo me Ha sollevato Delle cose interessanti Dalle quali sicuramente Possiamo partire Per migliorare le cose Fatemi sapere Cosa ne pensate Se vi è piaciuto Questa puntata Vi ricordo Di seguirci Su Spotify Su Youtube Su tutti i social Di attivare le notifiche Così non vi perdete Tutte le altre puntate E noi ci vediamo Alla prossima puntata Di Stendino